Ciao ragazzi, l'ho combinata, l'ho combinata, chiedo scusa, non me la ricordavo, non me la ricordavo, sono una certa anch'io Inerente alla canzone ho fatto oggi, Del Nuti, Puppa Pera Nelle basi caro, e che oltretutto poi queste basi cerchiamo di farle un po' meglio Perché tra l'originale c'è una bella differenza, quindi uno un po' si deve arrangiare Io non sono una cantante e quindi mi arrangio molto male, infatti non sono per niente contenta di quello che ho fatto oggi Allora, sulla base viene questo, cioè tu c'hai le puppe a pera Chi è di Firenze lo sa, è Puppa E infatti nell'originale è Puppa Pera Quindi non è tu c'hai le puppe a pera No Tu c'hai le puppe a pera Tu c'hai le puppe a pera Tu c'hai le puppe a pera 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 Puppa pera La pronuncia in inglese, ma anche in italiano, eh Hai! Hai!